Quando ci incontreremo di nuovo, tutte e tre la pioggia, nel tuono, quando il tumulto e la confusione sarà un po'. Doppio spettacolo della compagnia Raghi a Sala Icos nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Venerdì 25, serata unica con la satira sociale di L'Italia Sedesta, mentre sabato 26 e domenica 27 sarà in scena Macbeth Out Idola Teatri, che partendo dalla tragedia di Shakespeare esplora la potenza creativa della superstizione. Al nuovo Teatro Sanità, soltanto domenica 27, le ragazzine di Napoli stanno perdendo il controllo, la società Le Teme, La Fine e Azzurra, un lavoro collettivo diretto da Eleonora Pippo ed ispirato all'omonimo fumetto di Rattiger, che parte dalla storia di due adolescenti appassionate di analisi mediche. Sala Icos e il nuovo Teatro Sanità potranno essere raggiunti col Polibus, la navetta gratuita del Comune di Napoli disponibile su prenotazione.